Il gruppo di Ano Riparte è intervenuto sul caso dei nuovi loculi del cimitero costati 250 mila euro rimasti inutilizzati da un anno e mezzo mentre ci sono difficoltà a trovare spazi per i defunti. In particolare il gruppo di opposizione ha espresso stupore dopo aver visto la data del 14 luglio 2015 del certificato di regolare esecuzione. Un ritardo inaccettabile ed incomprensibile per l'utilizzo dei loculi hanno detto dagli atti che avevamo richiesto al comune c'è giunta una scarna documentazione tra l'altro neanche vistata dal responsabile del procedimento non esiste un atto che fornisca indicazione per motivare questo abissale ritardo. D'Ano Riparte ha ora annunciato la presentazione di un'interrogazione in Consiglio Comunale per ottenere un impegno formale immediato a consegnare i nuovi loculi al pubblico utilizzo. Grazie. 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 Grazie.